E niente, vi auguro buon Natale a tutti i genitori, il porto del Salute dell'Amministrazione Limonale, i cittadini di Azio, per stanno il rapporto dietro. Abbiamo fatto il piano terzo. Adesso aspettiamo l'armadietto della Libia, che arriverà penso, per le bidelle, e poi ci concentraremo sul externo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ha fatto aiutarlo, eh? Sì, grande. Aiuto! Aiuto! Chi ti sta? Sì! 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 Sarà Natale se vivi, sarà Natale se vivi, sarà Natale se vivi, ma non ti soffre di più. Sarà Natale se vivi, sarà Natale se vivi, sarà Natale se vivi, sarà Natale se vivi, ogni giorno con gli amici. Sarà Natale se vivi, 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 sarà Natale se viv Buon Natale a tutti Buon Natale a tutti